we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi giornata veramente interessante per quanto riguarda il nostro fortnite e sì ragazzi perché alle 15 arriveranno le sfide della settimana numero 5 ma arriverà anche aquaman insieme alla sua sfida per il tridente parleremo di tanto oggi ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno vi chiedo subito scusa ma sono due giorni che non posso accedere a instagram quindi non posso ripostare le vostre storie oggi riesco ad andare magari al centro team mi faccio risettare il numero e spero di riuscire a tornare attivo come prima mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento interessante perché si parla di regali quelli che vedete alle mie spalle sono i tre regali per gli spettatori delle fncs le fortnite championship series ne abbiamo già viste l'anno scorso dove proprio nel mio canale twitch c'erano i drop attivi e i ragazzi che l'hanno guardato hanno ottenuto in pochi minuti gli adesivi e lo spray che erano di colore giallo questa volta invece abbiamo nuovamente uno spray è leggermente coperto dalla mia webcam ma lo vedete anche dall'altra parte all'estrema destra dove c'è appunto l'adesivo con il logo mentre arriva un nuovo regalo un backpack voglio anche farvelo vedere perché abbiamo uno spezzone molto molto rapido di come si presenterà sulle skin e non assolutamente invasivo è carino diciamo niente di esagerato ma per essere comunque un regalo che vuole farci epic games direi che ci possiamo tranquillamente accontentare vi ricordo che le fncs avranno luogo l'1 e il 2 agosto l'8 e il 9 agosto mentre le finali saranno dal 14 al 16 quindi ragazzi tanta tanta roba per questa nuova competizione che sicuramente vedrà migliaia di utenti connessi contemporaneamente e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un'immagine che io vi faccio vedere prendetela con le pinze ragazzi ieri per chi ha visto il video news ha sicuramente guardato tutta la sezione dove parlavamo che il 25 luglio sarà il compleanno di fortnite il terzo compleanno questa immagine appare ultimamente abbastanza spesso e come si vede sarebbe un backpack di nuovo il regalo quindi la torta simile a quella che abbiamo ricevuto il primo anno solo con colori diversi e il numero 3 insieme alle candeline alla parte alta io sinceramente sono un po dubbioso che questa immagine sia vera ve la faccio vedere perché se non fosse vera è comunque fatta benissimo andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è tutto il discorso aquaman allora questo video ragazzi è stato registrato prima del cambio shop di oggi 16 luglio quindi probabilmente o ci sarà un cambio shop alle ore 15 quindi al momento in cui arriveranno tutte le sfide quelle della settimana e quelle di aquaman e o altrimenti c'è la possibilità di avere già nello shop la skin black manta sappiamo che sarà presente in questi giorni perché avevamo già visto le sagome criptate nei file di gioco black manta arriverà anche con un backpack e con un piccone doppio che somigliava a una coppia di spade una coppia di lame per chi non sapesse chi è black manta per per tutti insomma è l'antagonista di aquaman ma andiamo direttamente a parlare di lui ragazzi perché oggi completando la quinta sfida otterremo la skin aquaman quella con il costume dite un po chiamatelo come volete la sfida di oggi ragazzi però sarà molto interessante perché ci darà un altro premio intanto come si fa a prendere aquaman beh dovete completare le quattro sfide che già sono state proposte in queste quattro settimane la prima fare un giro del time trial un giro a tempo a moli molesti quindi se voi andate a moli vicino alle gru troverete un grande cronometro potete attivarlo e nuotando farete tranquillamente il giro ottenendo il primo premio il secondo bisogna prendere con una canna da pesca uno squalo a sabbie sudate piccolo trucco se per caso lo squalo non lo trovate a sabbie non è un problema andate da qualche parte prendete un qualsiasi squalo portatelo a sabbie sudate liberatelo e riacchiappatelo e la missione sarà fatta il problema invece è sulla terza per chi non l'ha fatta perché dovevamo utilizzare il vortice alla fortiglia purtroppo ragazzi momentaneamente i vortici sono disabilitati quindi dobbiamo aspettare che epic decida di riattivarli non si sa in realtà il corretto motivo per cui li abbiano disabilitati si parlava di un glitch con il passaggio poi si è parlato si andava sotto la mappa insomma qualche ostiata l'hanno fatta e per terminare ragazzi bisogna pescare tre differenti tipi di pesci in un singolo match quindi trovate le pozze pescate il flopper pescate il preliva e poi vi mettete tranquillamente nell'acqua e tirate su un pesce piccolino per quanto riguarda invece la sfida di oggi vi invito ad andare a dare un'occhiata nella parte alta a sinistra della mappa dove con l'ultimo abbassamento dei livelli delle acque sono emerse le tre isolette come vedete sono per adesso sono tre grandi massi ma se andiamo nel replay vedremo che su uno di questi è presente il tridente di aquaman è lei bello inforcato e infatti la sfida ci chiederà reclama il tuo tridente come si fa per reclamare e come il tridente porca miseria pensavo di avere il video e invece non ce l'ho quindi è davvero molto carino da vedere un bel piccone pulito tutto dorato un pochettino grande ma ci sta un botto ma vi ricordo anche un'altra cosa aquaman ha uno stile che potrete già ottenere quindi un sacco di roba vi si regala oggi ragazzi per ottenere lo stile ci chiede di lanciarci dalla cascata gorgus gorge george chiamatela un po come caspita vi pare vi faccio vedere molto rapidamente di quale cascata stiamo parlando non è ovviamente difficile capirlo è la grande cascata che si trova al termine del fiume dopo aver passato lago languido quindi come vedete basterà che con la skin di acquaman voi vi buttiate giù da questa cascata e sarà completata la sfida quindi otterrete lo stile personalizzato di acquaman tanta tanta roba e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un glitch incredibile un bug e chiamatela un po come mi pare sempre con gli elicotteri per entrare nei cavo senza bisogno della card voglio farvi vedere il video dedicato e ve lo spiego quello che vi serve ragazzi è l'elicottero ovviamente un vostro amico e la macchinetta per potenziare in questo caso se voi andate alla all'autorità distruggete questo cespuglio che adesso verrà distrutto distruggete anche la base di questo cespuglio e distruggete la mattonella questa parte di pavimento quella di fianco al camion di reboot fatto questo salite a bordo dell'elicottero cercate di parcheggiarlo leggermente più avanti capirete che la posizione è giusta quando le pale toccheranno la ringhiera quindi farete un pezzettino indietro e quella è la posizione giusta a questo caso vi spostate nel posto laterale buildate intorno all'elicottero vi fate aiutare dal vostro amico e chiedete sempre al vostro amico di lanciare la macchina per potenziare una volta che la lancia sbamma i grandi bug e sarete dentro al cavo senza bisogno di aprire con la card il problema è che non potete uscire dal cavo quindi alla peggio fate su prime a fa e non voglio dirlo bene che magari mi sblindano quelli di youtube e potete sparacchiare se qualcuno aprirà il cavo insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao un po di acquetta in pace come sempre ragazzi bella un po di acquetta in pace come sempre ragazzi bella